Con questa iniziativa dunque parte un nuovo percorso di sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue. È fondamentale perché abbiamo rilevato che in tutto il territorio nazionale c'è un calo delle donazioni che è stato anche argomentato, ci sono motivi ben precisi e dunque le regioni e la regione d'Abruzzo è in testa hanno il compito di rilanciare e per rilanciare devono mettere in campo una serie di percorsi, di obiettivi, di traguardi, di sfide che intendiamo cogliere e ovviamente poi ottenere, ottenere sul campo. Oggi abbiamo lanciato un progetto che è già in corso, diciamo che fa sì che la regione Abruzzo sia anche tra le regioni più attrezzate dal punto di vista della programmazione e mettiamo in rete tutte le associazioni, sono molto importanti, che grazie a un percorso di informatizzazione certamente rilanceranno le operazioni cosiddette di reclutamento dei donatori e aumenteranno anche la possibilità di aumentare le donazioni in sé. Voglio soltanto dire due cose in chiusura, ovvero uno che quando c'è un'alleanza tra istituzioni e associazioni il sistema sanitario non solo è più compreso ma si rafforza, due che rilanciare sul tema delle donazioni vuol dire davvero rilanciare sulla vita. Ci sono dei percorsi assistenziali, dei servizi, in questo caso la donazione che rafforzano una comunità intera, che in qualche modo rafforzano il tessuto civile della nostra regione. Questa è una delle grandi cose che ogni persona può fare e dobbiamo anche rafforzare per migliorare il reclutamento e il percorso di sicurezza dello stesso donatore. Così stiamo facendo. Grazie a tutti.